Ciao a tutti ragazzi, io sono Andrea e benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono qui per fare la reaction al nuovo trailer di After. Il film è tratto dalla serie di omonimi romanzi scritti da Anna Todd, di cui sinceramente me ne fotte meno di zero. Però un paio di mesi fa, quando uscì il primo trailer, in molti mi avevate chiesto di fare la reaction e io vi ho bellamente ignorati, me ne scuso in parte. Ieri è uscito un nuovo trailer, in molti mi avete riscritto di fare la reaction, questa è tutta colpa dei video di 50 sfumature di grigio e 50 sfumature di nero, lo so, è colpa loro, sì, so anche che manca 50 sfumature di rosso, ma non so se lo recupererò a questo punto. E niente, vediamo insieme questa nuova fantastica e incredibile avventura di una ragazza innamorata di un figo. Voltage Pictures, Rai Cinema, proprio il top! Sicuro? Come succede? Tipica festa americana? Tipico obbligo e verità? Tipica domanda? Obbligo e verità? Adesso... 5 milioni di copie vendute? Ok. Mamma mia! Che simpatia! Benvenuta nel mio posto preferito! Pensavo volessi solo un'amica. Certo! E l'amica la porta a fare il bagno mezzinudi nel lago? Ma adesso, mi spiegate perché 50 sfumature di grigio e anche qua in street trailer c'è... Non lo so, fatemi vedere perché se no avete qualche problema alla respirazione. Attenzione perché si vede già che ha un Q e un K di cuori tatuati sulle mani. Non vedo l'ora. Tu sei alzista. Niente potrà mai cambiare quello che provo per te. Mi sono già annoiato. Stai attento a testa. Che? Riguardarti. Oh! Ma quello è il padre di Seth Cohen! Come ci sei finito là dentro, signor Cohen? Avrei bisogno di soldi, te li do io! Va bene. Lea, stai per scoprire qualcosa. Ma non è quello che penso. Niente. Stai facendo un grande errore. Sarà. Ti spezzerai fuori. Più. Come. Prema. Cosa stai sognando? Ok. Questo finale mezzo-horror. Cioè, se avessero cambiato musichetta si sarebbe trasformato tranquillamente in un thriller. Ragazzi. Cioè, hanno fatto cinque libri su sta roba? Quante pagine sono? 1200 da qualche parte. L'ho letto prima di vedere il trailer. Cos'hanno scritto? Cioè, Anna Todd, cos'è scritto? Come hai fatto a fare 1200 pagine di questa roba? Va bene. Io l'unica cosa che voglio dire è un piccolo pensiero verso signor Cohen. che purtroppo è finito da Orange Country, poi è passato a Law & Order e adesso si ritrova in After. Niente, non lo so. Se siete così interessati potrei andare a vedere il film e fare una super reaction che so già sarà molto soft e leggera. Magari farò, anche come ho fatto per 50 sommatori di grigio, le frasi più hot. Gente che fa respiri su questo film. E niente, io vi odio tutti quanti e tutti quelli che mi avete scritto su Instagram di vedere sta roba. Un po' mi manca Adrian. Ciao.